buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde ultima puntata dell'anno scolastico 2022 2023 parleremo oggi della mini call veloce che ricordiamo a tutti i nostri telespettatori sarà aperta dalle ore 9 del 9 agosto alle ore 9 dell'undici agosto 48 ore per fare la domanda per le l'immissione in ruolo per coloro che sono in gps sostegno prima fascia o elenchi aggiuntivi e nella loro provincia pur esprimendo tutte le possibili preferenze non sono riusciti ad entrare in ruolo quindi per loro l'opportunità di scegliere una regione da cui indicare le province per partecipare alla mini call veloce prima domanda a chi è riservata la call veloce la cui stanza parte alle ore 9 del 9 agosto e termina alle ore 9 dell'uncio agosto possiamo affermare che alle ore 9 del 9 agosto e fino alle ore 9 dell'undici agosto dunque dal 9 all'undici agosto sarà attivata una mini call veloce aperta ai docenti inseriti a pieno titolo in prima fascia ed elenchi aggiuntivi delle gps sostegno che pur chiedendo tutte le preferenze possibili non abbiano ricevuto nomina finalizzata al ruolo della gradatoria di iscrizione questo consentirà a chi è inserita pieno titolo nelle gradatori provinciali delle supplenze di sostegno chiaramente prima fascia di poter fare domanda di assunzione per una o più province di una stessa regione anche di un'altra regione rispetto alla regione e quindi alla provincia in cui sono iscritti in gps seconda domanda cosa accade se una volta che si aderisce la mini call veloce non si volesse prendere servizio nella sede assegnata allora non accade nulla di particolare si permane nella gps di prima fascia sostegno e in tutte le gps della provincia in cui si è inseriti per ricevere la nomina delle supplenze ma sarebbe opportuno con una certa celerità avvisare l'ufficio scolastico scolastico in cui si è inseriti in gps quelli in cui è stata assegnata la sede il ruolo della volontà di rinunciare al ruolo questo per consentire chiaramente poi gli incarichi e supplenze nella gps di iscrizione terza e ultima domanda su quale piattaforma si compila la domanda della mini call veloce allora si compila dalla tradizionale istanze online del sito istituzionale del ministero dell'istruzione del merito con accesso tramite lo speed e dichiarando la provincia di inserimento nella prima fascia o elenchi aggiuntivi delle gps sostegno indicando la provincia o le province di una regione scelta in cui sono disponibili i posti per l'inserimento del ruolo specificando le tipologie di posti di sostegno per cui si intende partecipare dichiarando di aver partecipato alla procedura finalizzata nell'immissione ruolo nella provincia di appartenenza per la medesima tipologia di posto di sostegno e di non essere il risultato destinatario di una proposta di assunzione e dando infine anche l'ok al trattamento dei dati personali speriamo che queste risposte a queste domande sul prossimo ammini col veloce dedicata agli iscritti in gps prima fascia ed elenchi aggiuntivi sia stata utile per i nostri telespettatori seguiteci sui nostri canali social facebook youtube instagram perché andranno in onda delle dirette molto interessanti su questo tema ma anche su altri temi e chiaramente seguici pure nel nostro sito www.tecnicadella scuola punti arrivederci a tutti e buona estate grazie a tutti